Ben trovati, il film di cui parlerò oggi è Third Person di Paul Huggies, la traduzione è Terza Persona e appunto questo è un po' il titolo deve essere detto anche come una chiave di lettura dell'insieme del film perché il film è strutturato con storie parallele. Basicamente la storia che guida è quella di Michael, uno scrittore premio Pulitzer ma che appunto è alle prese con il suo quarto romanzo che non ingrana, che non trova un filo conduttore e che non è all'altezza dei suoi esordi. Michael ha una storia con Anna una giovane scrittrice e giornalista intraprendente che però appunto per lui è un'allieva in qualche misura e questa è una storia, parallelamente c'è una storia strana, peculiare, un americano a Roma che incontra una rom che chiede aiuto per riscattare la figlia dalle mani di persone che la tengono in ostaggio e un'altra terza storia che sempre riguarda un figlio che viene sottratto alle cure della madre perché è sospettata appunto di averle fatto del male e che appunto è la storia di Giulia e dell'ex marito con cui c'è appunto una storia di contesa proprio come si diceva adesso rispetto ad un figlio. Allora questi tre tracciati sono scomposti e ovviamente mescolati fra di loro in un modo che non crea un filone unitario se non verso la fine, in un modo tutto sommato abbastanza prevedibile secondo quella tecnica che è il metaracconto, cioè un racconto che ne include tutti gli altri. Questo metaracconto è in realtà il libro che sta scrivendo proprio Michael. Allora questa tecnica è una cosa letterariamente molto utilizzata, al cinema la si è vista usare con grande maestria in un film di Mark Forster, vero come la finzione, qui Paul Huggies che pure è uno sceneggiatore abile che ha lavorato per Clint Eastwood, il suo è la sceneggiatura di Million Dollar Baby e di Flags of Our Fathers è un autore con una certa esperienza, qui lo scomporre, il ricomporre la storia non riesce secondo me nell'operazione di dare un filo conduttore narrativo anche seppur a posteriori perché i temi forse sono troppi i temi sono enunciati sono almeno due, uno è quello della fiducia che è rappresentato anche dal colore bianco bianco è il colore delle rose che il protagonista regala alla giovane scrittice, è il colore della fiducia come tale è il colore dell'innocenza dei bambini che sono spesso appunto qui quelli che sono contesi ed è il colore anche delle white lies delle bugie innocenti che si raccontano appunto per coprire qualcosa che non si può dire, non si può raccontare questo tema in realtà meriterebbe di essere sviluppato un po' oltre e il modo in cui Huggies sceglie di farlo è quello di passare dal tema della terza persona la terza persona qui vuol dire due cose, da un lato vuol dire in queste vicende, in tutte e tre queste vicende che poi si uniscono e si sciolgono fra di loro c'è sempre un terzo che è il motore della questione e anche il problema c'è l'amante, c'è il marito che giudica, l'ex marito che valuta e che non concede il figlio ci sono i figli appunto che sono cercati e mai raggiunti allora questa terza persona è ciò di cui ci occupiamo forse per non occuparci di noi stessi il segnale di questo è che Michael, lo scrittore tiene un diario, un diario della sua vita che è anche un diario delle sue idee letterarie ed è questo diario scritto interamente in terza persona quindi come se lui staccasse da sé la propria esistenza per poterla raccontare per poterla unificare ma con ciò appunto fallendo miseramente perché ne crea, ne fa un oggetto a parte da se stesso d'altra parte l'idea della terza persona vuole anche dire filosoficamente il tema del si dice, il tema che appunto riferisce le cose dicendo lui, dicendo lei ma non dicendo mai né io né tu ecco questo è stato indagato in filosofia la prospettiva di prima persona è una prospettiva che dal punto di vista dell'azione morale è spesso la prospettiva del soggetto certo di chi agisce ma è anche una prospettiva che se non pensa l'altro se pensa solo se, se stesso, è una prospettiva egocentrica e solipsistica che dimentica di vedere gli altri la prospettiva della terza persona ugualmente dimentica tutti i soggetti perché è sempre in qualche modo impersonale, è sempre l'altro nel senso del lui, del lei di qualcuno che noi non siamo è la prospettiva che elude la soggettività dell'io e che non guarda veramente in faccia il tu ecco, un filosofo americano, Stephen Darwall, ha messo a tema questa versione cioè proprio l'idea della seconda persona, del tu come fonte di un'autentica relazione morale la relazione morale è proprio il poter dire tu all'altro riconoscendolo questa dinamica del riconoscimento è il movente della relazione e non a caso la relazione che si instaura di fronte a un tu che non sono io, che non è in mio possesso e che non è nemmeno incasellabile nelle categorie impersonali del lui e del lei di persone che si incontrano il tuo riconosciuto nella sua individualità è il punto di riferimento per una reale fiducia un'autentica fiducia cioè ci si fida dell'altro e solo fidandosi dell'altro si riesce a riconoscerlo e ad essere in relazione autenticamente con lui o con lei questo tema della fiducia è enunciato nel film torna, si scioglie bene nel senso che le storie poi concludono nel senso per cui la fiducia concessa a rischio viene riconosciuta e viene praticata e scioglie a favore della storia però l'intreccio è un po' complesso e forse Haggis poteva far meglio nel cercare di tenere unite tutte queste storie quindi in qualche modo la trama impalpabile delle relazioni resta la trama impalpabile di questo film che aveva forse bisogno di uno sguardo più unificante, più potente e che rende un po' priva di unità all'interno della storia è comunque un film di immagini e di emotività e di relazioni che ha una certa intensità, una certa profondità forse poteva riuscire meglio ad ogni modo grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana